Vengo e torno con piacere perché eravamo stati qui, uno dei primi incontri che ho fatto qui è stato proprio di coordinamento delle attività che servivano e devo dire che dopo un anno possiamo cominciare a raccontare di un documento e di un progetto che è quello ZES che è già una realtà, lo sportello unico digitale in funzione da giugno, abbiamo già rilasciato una decina di autorizzazioni e quindi ormai si tratta di cominciare a cercare di attrarre quanti più investimenti possibili e farlo contemporaneamente supportando il territorio nel migliorare le aree in cui investire. Quali sono le imprese che stanno aderendo con più entusiasmo a questo progetto della ZES sul territorio catanese e non solo? Guardi, la ZES evidentemente ha già delle indici, indirizzi di priorità nel manifatturiero in larga scala. Gli interessi sono quelli, soprattutto in questo territorio, quelli che già in qualche modo convergono dal punto di vista degli investimenti, quindi la microelettronica, i laboratori che sono sottesi a questo e quindi tutto ciò che è ricerca, economia circolare, logistica, queste sono le tre, è farmaceutico, queste sono le quattro aree su cui questa decina di investimenti si è mossa, ma al momento abbiamo 35 richieste più o meno attive di autorizzazione, sono veramente innumerevoli le richieste di interesse sia locali che nazionali che estere sulla possibilità di investire, chiaramente è divulgazione in questo momento per questo punto di vista. Posso fare qualche numero degli investimenti che si sono già sviluppati o che sono comunque in corso di realizzazione nell'area? Io non sono un patito dopo un anno di quanto si è sviluppato e quante sono le autorizzazioni, perché è chiaro che il processo delle imprese è un processo che ha bisogno di tempo e forse anche di stabilità nel comprendere che delle misure vengono allungate, sotto questo punto di vista infatti insieme al Ministero lo sforzo è quello di cercare di dare una dimensione alla ZES non solo temporale, ma anche di supporto finanziario e di credito d'imposto che sia più lungo possibile. Gli investimenti attuali si aggirano sul 70-100 milioni, ma sono ordini di grandezza perché nelle autorizzazioni di questo non se ne parla, ma sicuramente quello che deve arrivare dal punto di vista degli investimenti sono innumerevoli e tutti di qualità medio significativa, quindi non mi faccia fare numeri che non ho e che non abbia abituato nei dati. Quando riguarda il famoso PNR, si è parlato molto degli investimenti che si potrebbero fare attraverso questi fondi europei, anche la ZES immagino sia interessata a questo. Questo è l'altro ramo su cui stiamo muovendo e che è stata un'intuizione enorme perché può permettere alla ZES di risolvere dei problemi oggi, ma di essere strumento anche in fase successiva. Sull'oggi, proprio ieri abbiamo ricevuto l'aggiudicazione provvisoria del collegamento tra il porto di riposto dell'autostrada che partirà entro maggio, i cui lavori partiranno entro maggio, comunque entro il primo semestre. Siamo in fase di avvio, è questione di giorni, della progettazione in urgenza di altri due collegamenti, quella a Santa Catena di Militella e quella a Gela e a Licata, che hanno altri tre collegamenti e anche la sistemazione dell'ingresso dell'interporto è partita. Quindi tutti e quattro gli interventi sono in time con la scadenza del PNRR e porteranno sul territorio in totale 60 milioni di lavori che rappresentano una piccola parte del PNRR, ma sicuramente utile a migliorare certe aree della nostra Sicilia. Ecco, il miglioramento delle aree va di pari passo con la situazione anche delle nostre zone industriali, lo sappiamo, sono molto importanti, ma hanno bisogno di consistenti investimenti anche per la sistemazione. Indubbiamente, più volte ne ho parlato con il Presidente di Compindustria che con piacere oggi ci ospita, ma anche con le organizzazioni sindacali, col Comune e così via. È un problema che si riflette nel momento in cui soprattutto si cerca di internazionalizzare ulteriormente, perché già lo è, quello che è il processo di investimenti nel territorio, perché è chiaro che si confronta non solo con la burocrazia, ma anche poi con i problemi non di grandi infrastrutture, ma di piccole infrastrutture. Stiamo parlando di decoro urbano, segnaletica, di resilienza dal punto di vista dell'idraulica, sappiamo cosa succede quando si allaga parte della nostra area industriale a Catania, ma anche in altre aree. In questo la ZES non è manutenzione ordinaria, ma sicuramente può essere strumento insieme alle organizzazioni datoriali e insieme quindi a chi vive per cercare, questa è la mia idea, di ognuno fare la sua parte, di fare una sorta di condominio di persone interessate e ognuno in questo condominio cerca di portare il proprio contributo. Spero di poterglielo far fare. Professor, un'ultima domanda, tra le questioni che si sono sollevate nei mesi scorsi e arrivamente all'azienda è stata anche quella dell'arriperimentazione dell'area, da questo punto di vista cosa possiamo dire? C'è un decreto che è passato dalla conferenza Stato-Regioni ormai alla fine dell'anno scorso, a settembre-ottobre dell'anno scorso e alla firma dell'attuale governo, nel momento in cui verrà emanato. La ZES Sicilio-Orientale è pronta con strategie, criteri e reti da metter su con i comuni già interessati, ma anche col territorio in generale, affinché il piano strategico della ZES non sia un qualcosa che sta lì per sette anni, più sette, ma viva insieme agli investimenti, quindi inseguendo in qualche modo le aree che più di tutte attraggono investimenti locali, nazionali o internazionali.